Dopo 40 anni la sagra del vino cotto di Loro Piceno in provincia di Macerata diventa un festival. Dal 18 al 21 agosto cantine aperte e stand gastronomici per gustare l'unico e inimitabile vino cotto di Loro, a cui è stato dedicato anche un museo. Pochi lo conoscono, ma quando lo bevono lo apprezzano con cantuccini o altri abbinamenti. La festa è stata pensata come un'occasione per promuovere attraverso eventi culturali, convegni, spettacoli, degustazioni, la rassegna itineranza, assaggi di raci, Loro Piceno, il suo territorio e il suo vino. Esatto, proprio cercare attraverso le eccellenze di promuovere la qualità del nostro territorio, del nostro paesaggio, la qualità della vita delle nostre zone. E proprio per questo appunto ci siamo inseriti nel circuito assaggi di raci come vino cotto festival per far sì che sì, il vino cotto è il carattere distintivo di Loro Piceno, ma ci siano tutti i prodotti tipici della zona, dai legumi di Appignano all'olio del piantone di Mogliano, che si possono degustare in questi giorni e che siano da sprone poi per far venire la voglia di visitare Loro Piceno anche in altre occasioni. Oltre a stagio di raci altri elementi contraddistinguono questa quarantesima edizione, una sagra che diventa quindi un festival, si aggiungono appuntamenti come mostre, convegni, momenti di dibattito, oltre al museo che c'è sempre. Esatto, sì, oltre alla mostra permanente delle attrezzature per il vino cotto che abbiamo, che ormai è una nostra caratteristica, sì, ci sono molte mostre comunque di scultura, pittura, fotografia, che fanno sì che oltre a uno che può arrivare a Loro Piceno e degustare il vino cotto possa girare per il centro storico negli angoli più suggestivi e visitare queste mostre. Grazie.